Tutto pronto per Castel dei Mondi, il festival internazionale in programma ad Andrea dal 25 agosto al 10 settembre. 17 giorni di teatro, spettacoli, installazioni, concerti che vedranno gli spazi cittadini animati da 21 compagnie per un totale di 84 repliche. La qualità del festival alimentata negli anni, soprattutto la costruzione di un'identità ben precisa, cioè quella di avere come obiettivo i cittadini che hanno, come posso dire, con le loro risorse alimentato anche la possibilità di poter costruire un festival che è migliorato molto nel tempo e quest'anno raggiunge dei livelli abbastanza elevati sia nella qualità che nella forma che nella dimensione anche. Il pensiero della città, tema conduttore dell'edizione 2017, organizzata dal comune di Andrea in collaborazione con il teatro pubblico pugliese e sostenuta dalla regione Puglia. Crediamo nello sviluppo attraverso la cultura, è una cosa molto importante, tenete conto che questa è già la ventunesima edizione, ma la cosa più importante è che noi parliamo di occupazioni di tutti gli spazi, non solo quelli che appartengono ai teatri ma soprattutto alla strada, ai borghi antichi, per la rivalutazione di queste piazze, di questi luoghi e questo per noi è una cosa molto importante. Un consueto appuntamento con la cultura da vivere a tutto tondo, pronto a mettersi in gioco per l'edizione numero 21. L'intenzione di questo festival è appunto rompere e creare delle provocazioni intellettuali, rompere gli schemi. Noi ieri siamo partiti proprio con una prima di Caligola di Michele Sinisi che un po' a livello teatrale rappresenta il fiore all'occhiello di Andrea, portando in scena un Caligola di Camus che ha spaccato tutti gli schemi. Oggi invece la prima nazionale di Cirque Vos dello spettacolo Buna, compagnia francese che ha costruito una cattedrale di bambù nel centro storico di Andrea in piazza Catuma. Grazie. Grazie.